È chiaro che bisogna ritornare a capire qual è il significato del ticket, è un problema di compartecipazione alla spesa, è un problema di ridurre l'inappropriatezza nell'uso dei farmaci, è un problema di tenere conto come è giusto di quelli che hanno più bisogno. Quindi inizia un lavoro e l'impegno che entro l'estate è di avere una serie di proposte per poter decidere.